quando ci si sveglia la mattina alle volte sia di buon umore alle volte magari di meno buon umore ma l'altra mattina come ho letto il giornale ho provato una soddisfazione come poche volte i tedeschi hanno imbrogliato una soddisfazione infinita la volkswagen ha imbrogliato non solo la volkswagen ma che sta anche la questione degli immigrati perché anche loro finalmente hanno provato che cosa sono gli immigrati ma la soddisfazione a volkswagen mi spiace perché indubbiamente non è bello che succedano queste cose ma siccome queste cose sono sempre attribuite agli italiani quando succede in italia tutti i giornali est da spighe dai giornali francesi inglesi in italia successo quali italiani gli italiani italiani mi fa capire che qualche volta i signori toteschi abbiano fatto cose che non si dovevano fare ed è di una gravità enorme molto di più di qualche nostra imbrogliatura e perché pensare che si siano fatte delle macchine un numero incredibile di macchine non corrette cioè praticamente tecnicamente non a posto è una cosa che non me la sarei mai aspettata dai tedeschi grande rispetto perché non tutti i tedeschi sono così ma siccome quando succedono queste cose in italia si fa sempre campagna contro ogni tanto che sia qualche non che se lo ciappa chiedo scusa non dove ma la io però questo argomento desidererei affrontarlo anche con una cosa che successe in inghilterra in inghilterra è stato eletto corbin corbin e mi sono domandato come mai corbin così non per il fatto che io essendo più liberale che cioè più di destra che di sinistra ma mi sono domandato come mai ma le ha avvallato quella che la mia tesi oggi bisogna presentare argomenti corbin ha vinto perché ha presentato degli argomenti ha detto signori bisogna tornare alle nazionalizzazioni a me non piace lui piace a molti piace e affrontato degli argomenti precisi oggi la gente ha bisogno di argomenti precisi se no non va a votare chiaro io avrei oggi concluso e passerei per un prossimo argomento nella trasmissione a me anche chiunque a me è a me è a me è a me è Grazie a tutti.